ciao a tutti anche questo video in collaborazione con la marco bindi live band io sono berta filava chi vuole venirmi a cercare su facebook può farlo riconosce la nostra pagina facebook dai gomitoli allora questo gruppo di tutorial riguarderanno le fustelle in particolar modo le metalliche e saranno incentrate sulle scatoline allora scatolina che prendiamo un esempio è questa ok andremo a tagliare un solo pezzo di cartoncino eccolo qui vedete e iniziamo a piegare tutti i bordini allora chi vuole seguirmi può farlo sia qui che su facebook lasciate un commento mi piace se vi fa piacere e iscrivetevi al mio canale per poter rimanere aggiornato sui video ecco qui andiamo a piegare tutti i bordini io ho lasciato la fustella ho pensato di crearvi questo gruppo di tutorial perché molto spesso vediamo le fustelle tramite foto e non sempre riusciamo a capire uno se è ciò che ci serve e 2 la grandezza come va assemblata ecco qui ho piegato tutti i bordini vado a mettere un pochino di colla qui che farà combaciare alla parte di fronte quella dove sono tutte le farfalline per capirci eccolo qui incolliamo per chiuderla scusatemi eccola incolliamo bene bene ok qua qui ci siamo ecco fate prima tutte le pieghette che perché sarà più comoda poi da assemblare io nel frattempo ho rotto l'altra pistola caldo e quindi sono ho dovuto sostituirla ecco perché c'è un video molto frettoloso sono due video molto frettolosi eccomi qui andiamo a piegare qui mettiamo la colla nel fondo e incolliamo così qua eccomi piegate piegate all'interno la linguetta sopra eccomi e mettete qui eccola ci siamo piccate bene come ero scordata a piegare questa parte ecco io ho recuperato eccola che questa è molto bella come scatolina anche se trovo proprio pratico il fatto che ci sono tutte queste farfalline ma spesso ci metto qualcosina sopra per non farle venire ecco e qui vi faccio vedere la grandezza ok non si vede benissimo sono quasi 7 cm per 6 cm e mezzo per 5 e mezzo 6 ecco ciao a tutte grazie alla prossima un bacio a tutte e grazie grazie a tutti